Un argomento che diamo per scontato, non ci pensiamo molto, è quello della competitività. La competitività è di contro alla cooperazione, alla collaborazione tra gli esseri senzienti. C'è un piccolo problema. La nostra mente è settata nel ruolo che è competitivo, che ognuno di noi ha. La società è basata sulla competizione. Se tu arrivi per primo da qualche parte, allora sei il migliore. Tutto inizia quando siamo piccoli, per esempio se facciamo sport, se ci hanno fatto fare sport i nostri genitori, spesso la cosa che ti dice l'insegnante o l'istruttore, qualsiasi sport sia, è che durante una gara è importante arrivare ai primi. Però questo meccanismo che cosa installa, quale credenza porta nella mente di chi cresce con questo insegnamento? Se io ho un approccio aggressivo verso una determinata cosa, se riesco a mangiare di quel dato argomento, di quella data pratica sportiva, se riesco ad arrivare ad eccellere a discapito di tutti gli altri, allora la gente mi considererà il migliore. Allora io sarò qualcuno, però se in una gara arrivo secondo, terzo, ultimo, nessuno mi considera. Poi inizia la scuola. Cosa succede nel sistema scolastico? Devi studiare per un voto, per un numero, e quel numero ti condizionerà. Cioè gli insegnanti più illuminati dicono che il voto è dissociato da quanto vali come tu, come persona. Ma molti non lo dicono. Forse non lo dicono sperando che questo messaggio, nonostante il non dirlo, passi a livello indiretto. Ma quello che posso vedere oggi è che dalle elementari, alle medie, alle superiori, c'è questo, per non parlare delle università, c'è questo settaggio mentale. Più argomenti incamero nella mia mente, più sono sciolto nell'esporli, più dissimolo una competenza nell'averli studiati, più il mio voto sarà maggiore. E quindi un'identificazione nel numero, non un'identificazione nella persona. Cioè non si valuta più la persona e la sua competenza. Si valuta quello che è il minor tempo possibile incamerato. E in un sistema basato solo su questo, chi è più sensibile? Chi sente che tutto questo è sterile, non avrà un futuro di lunga durata? Anzi, fino ad adesso è durato per molto tempo. Non so bene per quale motivo, però sta durando. E ogni azienda, ogni società è basato su questo, su ciò che rimane del darwinismo. Si chiama darwinismo sociale questo aspetto, dove le pratiche di sopravvivenza non sono più basate sull'evoluzione della specie, ma basate sull'economia. In sociologia si studia molto questo aspetto. Cosa dire invece della cooperazione? La cooperazione o la collaborazione tra individui, anche tra specie diverse, esiste in natura. Ma difficilmente ci viene insegnato. Quando ci parlano dell'evoluzione della specie, ci insegnano che il più forte ha la meglio sugli altri. Cioè quello che ha delle caratteristiche genotipiche, fenotipiche, migliori, allora avrà delle caratteristiche che gli permetteranno di andare avanti nel tempo. Gli altri moriranno. Questa è una selezione. Ma della collaborazione non si parla tanto. Non parlo della collaborazione sterile, di cui si parla spesso oggi, cioè anche del buonismo gratuito. Io vado a fare volontariato, allora sono una persona buona, aiuto gli altri. Ma mi piace traslare tutto a livello individuale. Una collaborazione nel modo in cui io vivo. Cioè quando io compio qualsiasi azione nel mio quotidiano, se mi domando il perché la sto compiendo, come la sto compiendo, allora una risposta. Può esserci una risposta competitiva, una risposta collaborativa. Ogni mia azione determina una reazione nel mondo, anche se non la vedo. Ogni spostamento energetico, ogni pensiero, ogni emozione, ogni azione ha un effetto. Su di noi in primis. Quindi se non ci piace la nostra vita, se non ci piace quello che stiamo ricevendo della vita stessa, dovremo porci sempre queste fantomatiche domande. Ogni mia azione è destinata a un fare egoistico, è un'azione egoista. Cioè la sto compiendo per avere soltanto io un contributo da tutto questo, oppure quello che sto facendo, lo sto facendo per aiutare qualcuno. Ripeto, non nel senso buonista del termine, ma perché lo sento veramente, sento che non mi basta avere soltanto io, ma io sarò sazia nel cuore, sarò piena a livello individuale, a livello profondo, soltanto se anche gli altri riescono a star bene, riescono a vivere bene. Perché soltanto quello che io do, allora potrò ricevere. Una speranza di ricevere qualcosa, senza l'aver dato in modo disinteressato, è una speranza effimera. Non ha sostanza. Non ha sostanza sotto nulla la regge. Questo è quello su cui volevo riflettere oggi.